Siamo davanti all'interfaccia web di Vodafone 360 un approfondimento su questo su questa parte di questo programma proprio perché la parte web è importante quanto la parte che abbiamo su cellulare. Abbiamo qua in alto quattro sezioni principali People, Foto, My, Web e Shop. Su People troviamo tutte le persone che abbiamo sincronizzate sia sui social network che abbiamo inserito nel nostro profilo sia per quanto riguarda i contatti che avevamo direttamente sul telefono. Proviamo ad aggiungere un account web come vedete potete aggiungere degli account solamente predefiniti Facebook e Google l'abbiamo già integrati purtroppo Google comprende solamente il messenger e non i contatti che abbiamo sul popolare motore di ricerca. Per il resto ci sono quasi tutti i più importanti provider italiani Jumpy, Tiscali, Vodafone, Hotmail e Yahoo. Per quanto riguarda invece la parte foto possiamo aggiungere delle foto quindi fare un upload sia da cellulare che da pc oppure andare a creare dei nuovi album. Per esempio facciamo un album di prova, lo salviamo, ecco che abbiamo creato un nuovo album. Io ho caricato le immagini dei miei contatti e ho tre album. Posso decidere se avere degli album condivisi, gli album degli amici, quindi qua vedo gli album di persone su Vodafone 360 che ha deciso di condividere i propri album oppure gli album privati. My web invece è la parte destinata più all'informazione e alle applicazioni che posso trovare sullo shop e sono le stesse applicazioni che una volta comprate o scaricate gratuitamente dallo shop trovo sia su questa pagina web sia sulla home del cellulare. Applicazioni che posso andare a scaricare o acquistare proprio nella quarta parte del sito dove ho lo shop e posso andare a vedere tutti i programmi che man mano stanno arricchendo il portale di Vodafone. Eccoli qua. per esempio entriamo nei social network c'è questo programma per twitter che si chiama twitter che funziona molto bene come vedete ci sono già alcune recensioni è gratuito lo scarichiamo. Questa applicazione la possiamo scaricare anche sul cellulare come vedete qua in alto c'è scritto che riceverai un sms sul cellulare che contiene un link di testo a tweet fai clic sul link per scaricarlo quindi si riesce a scaricare direttamente anche dal cellulare. Sono tanti i contenuti dello shop ovviamente non è in gravasto come l'app store ma si spera che pian pianino lo shop venga sempre più rimpolpato e vedere per esempio la parte dedicata alla musica come vedete i programmi sono sempre in aggiornamento noi siamo entrati circa tre giorni fa e c'erano meno programmi rispetto a quelli che ci sono ora. Una cosa interessante sono le impostazioni del 360 per esempio per quanto riguarda la privacy noi possiamo settare un livello di privacy diverso rispetto a fatto che il contatto sia un amico un familiare o un contatto di lavoro in base a ciò noi possiamo fargli vedere o meno i nostri dati personali quindi una cosa questa interessante. Per quanto riguarda i telefoni qua possiamo inserire tutta la serie di telefoni che stiamo utilizzando con vodafone 360 che ricordiamo non è compatibile solamente con i nuovi samsung che sono stati studiati apposta ma è compatibile anche con una serie di altri telefoni per esempio con i con i symbian serie 60 per i quali c'è un'applicazione ad hoc da scaricare. Torniamo in people e vediamo come in basso ci sia lo stato personale che possiamo modificare e verrà direttamente pubblicato su facebook c'è la possibilità di andare a vedere i contatti disponibili sulle varie chat che abbiamo integrato in 360 possiamo scrivere un messaggio di testo a un contatto che possiamo andare a selezionare dalla nostra rubrica oppure possiamo andare a visualizzare le email di 360 e qui forse il punto dolente di questo servizio infatti noi abbiamo integrato nella mail chiocciola360.com una mail classicissima pop quella di telefonino.net per esempio e questa però non viene scaricata dal web mail e tantomeno ci vengono girate le email sul telefono e questo forse è un punto dolente speriamo che vodafone che sappiamo sta lavorando su questo punto riesca a risolvere il problema il più presto possibile. Pregi pro e contro di questa interfaccia web però sicuramente il fatto di avere una maniera semplice per gestire i propri contatti perché poi ovviamente i contatti che vengono modificati qui sull'interfaccia web possono essere sincronizzati col telefono quindi una gestione semplice dei contatti, una gestione semplice dei social network e delle nostre chat perché vengono comprese in un'unica piattaforma più chat. Lati negativi forse un po' la complicazione del sito non è semplicissimo navigarlo, non è semplicissimo andare a scovare le impostazioni per ogni applicazione e anche da questo punto di vista visto che il progetto è giovane e ambizioso speriamo che vodafone faccia qualcosa per migliorare la navigabilità del tutto. Sicuramente un pro è il fatto di avere un'interfaccia web multipiattaforma e una vera integrazione tra cellulare e interfaccia web. Per Telefone.net, Andrea Galeazzi.